La presentazione di My Selection 2019, i tre nuovi panini di McDonald's selezionati da Bastianich, lo Smoky, il Kitchen e il BBQ, è stata anche l'occasione per parlare di cosa fanno e sono per il territorio i ristoranti della nota catena, che solo in Campania ha un milione di clienti con 5 punti nel Salernitano, che oltre a dare lavoro fanno crescere l'economia del territorio utilizzandole la filiera agroalimentare. Noi siamo abituati, soprattutto nei territori nei quali operiamo, come Salerno Potenza, ovviamente a cercare di restituire al territorio parte del successo che ci attribuisce. My Selection comunque non sarà l'unica novità in arrivo nella catena McDonald's. Ci sono dei prodotti DOP e IGP italiani, perché noi l'80% della nostra filiera di fornitura, quindi le materie prime sono italiane. E in quest'ottica ovviamente siamo molto contenti che questo avvenga, perché andiamo sempre più a nazionalizzare la nostra gamma di prodotti, i nostri menù. Poi c'è un'altra grandissima novità che riguarda le OTF, che significa come acronimo Experience of the Future, che sarà il nuovo format McDonald's nel mondo. e noi abbiamo già un esempio qui sulle cotoniere, abbiamo un format di ristorante che già è quello interpretativo del nuovo sistema, che dovremo poi piano piano progressivamente allertare anche qui nel Salernitano e negli altri ristoranti. McDonald's è l'esempio della perfetta sinergia fra pubblico e privato, ricorda l'assessore all'annona del comune di Salerno, Dario Loffredo. Il 2019 sarà un anno di svolta per il commercio in città. Entro 18 mesi saranno disponibili 750 posti auto di Piazza della Libertà. A margio partiranno i lavori per la nuova pavimentazione al corso, per piazza a Casalbero e via Piave. Magari il marchio McDonald's potrebbe anche tornare al centro della città. Mi auguro sempre più che McDonald's possa investire nella città di Salerno e ci aspiciamo che finalmente possa ritornare al centro, perché personalmente io sono orfano, mi farebbe piacere scendere da palazzo di città e ogni tanto voglio dire invece solo di un gelato mangiare un panino caldo. Quindi da assessore a commercio non posso che sperare questo. Si vedrà, è possibilista Snichelotto sull'ipotesi di riaprire al centro. Snichelotto che incassa anche un altro placet dai consiglieri regionali Enzo Maraglio e Franco Picarone. Quest'ultimo ricorda anche un altro aspetto positivo della presenza di McDonald's a Salerno. Ha sempre collaborato con le istituzioni, qui a Salerno è stata fatta un'iniziativa negli anni scorsi importanti e sono intervenuti in maniera tangibile sui giardini della Minerva, dove hanno fatto l'aula multimediale, ma credo anche ristrutturazioni, ma anche altre iniziative, concerti, beneficenza, insomma tante cose importanti.